Con una notizia che ha lasciato in diversi, ma non tutti, per lo più di stucco, è arrivato il risponso relativo all'auto dell'anno, alcuni, scettici, ancora no di quale veicolo si sta trattando. Lo stupore è albergato negli sguardi e nei commenti di tanti che hanno assistito alla nomina dell'auto dell'anno, soprattutto da parte di chi è legato ai brand che sono di quale veicolo si sta trattando. Tra le automobili in gara, quest'anno, in effetti, ve ne erano di molte e alcune a dir poco gettonate, sembrava per certi versi che il verdetto fosse già scritto, in qualche modo, e invece non è andata così. Al contrario, una vettura ha svettato su tutte le altre, passando avanti ad alcune che, per certi versi e per alcuni parametri, potrebbero non volersi accontentare di, ma è un dato di fatto. Cosa è successo? Chi ha vinto? A chi è andato lo scettro della World Car of the Year? Lo vediamo subito, mettendovi di fronte a quella che ancora oggi sembra una incredibile sorpresa. A termine del noto evento del New York International Auto Show, Dias, che per appunto doveva decretare l'auto dell'anno, a vincere lo scettro è stata la Hyundai Ioniq 6. Proprio così, Hyundai Ioniq 6 è stata scelta come World Car of the Year ottenendo, per di più, oltre alla palma della macchina dell'anno, anche gli altri due titoli prestigiosi di cui adesso fa Hyundai Ioniq. Si tratta del premio World Electric Vehicle e World Car Design of the Year, che nella fattispecie come si intuisce fa riferimento alle auto elettriche dell'anno e all'auto dell'anno migliore dal punto. Si tratta del premio World Electric Vehicle e World Car Design of the Year, che nella fattispecie presentate finaliste, ovvero sia la BMW X1, non uno ecchia nero. Si tratta di auto lanciate nel 2022, ovviamente tutte come la Hyundai, che però ha avuto la meglio secondo il risponso di una giuria di 100 giornalisti di ben 32 paesi diversi, che hanno scelto, per il secondo anno di fila, di tutte come la Hyundai.